L'ultimo consiglio comunale di fine febbraio è finito così. In questo momento non c'è il quorum e sospendiamo la seduta per 15 minuti e poi rifaremo l'appello. In quell'occasione venne a mancare il numero legale, una situazione politicamente imbarazzante per la sindaca Elena Pavan e la sua, verrebbe da dire da tempo oramai, ex maggioranza. A salvare capra e cavoli in quell'occasione ci pensò la minoranza che, restando in aula, permise di condurre in porto il primo consiglio comunale del 2024. Giovedì sera si replica con un altro consiglio comunale e stavolta capra e cavoli saranno lasciati al loro destino. Anzi, come filtra da ambienti interni, stavolta saranno solo cavoli. Nel senso che se la maggioranza reggerà bene, altrimenti salta tutto e sulla tavola, oltre ai tavoli, ci sono tematiche importanti per la città e interpellanze politicamente scomode presentate dalla minoranza che chiede risposte, ad esempio, sul futuro del ex Piano Mar per sapere quale sia il termine temporale, oltre il quale verrà meno la dichiarazione di pubblica utilità, condizione indispensabile per la realizzazione delle opere previste, perché con le scadenze non si scherza e di treni Bassano in questi anni ne ha persi molti. E poi la cura e la riqualificazione del percorso pedonale lungo il Brenta. Qui il quartiere Sant'Eusebio si è speso, ha lavorato molto, ma necessita di mezzi, risorse e tutta l'area ha bisogno di essere valorizzata, cosa che finora l'amministrazione non ha fatto. Dulcis in fundo, c'è anche un'interrogazione sul futuro del Tribunale, un caso che riguarda le ispezioni dei funzionari, il mancato coinvolgimento del Consiglio Comunale e la volontà di vederci chiaro. Ma attenzione, perché la temperatura potrebbe schizzare alle stelle anche su un altro punto, la presentazione del bilancio sociale di mandato da parte della Sindaca. Poco, pochissimo, è stato il tempo tecnico e pratico per analizzare il tutto, viste le tempistiche ristrette con cui è stata coinvolta la minoranza. Il bilancio sociale di mandato non è cosa da poco, non può essere approvato con leggerezza, ci sono cifre, progettualità e scelte su cui un'analisi è necessaria. Se dovesse saltare anche questo, allora sì che sarebbero cavoli.